salve a tutti signori benvenuti a lavorare questa serie su mlb the show 2022 con la road to the show del nostro meta road che oggi comincia da qualcosa di un po diverso io off screen ho sbustato un po di buste varie ho sbustato robe e venduto robe per fare un po di soldini per prendere altre robe in sintesi ora io qua c'ho vario cos'è opposing run will not lead off che vuol dire non lo so recharge thing at increase pitch early when running low on energy no allora devo fare una cosa io questa o diciamo farebbe cosa ho aperto anche una busta di perk e c'era questa tift detection opposing run i runner opposti non will not lead off che vuol dire non lo so comunque non non ci interessa feeling ce l'abbiamo power control c'è un perché un po un po così eh però vabbè facciamo sta equipment avevamo provato le mazze abbiamo trovato un po di mazze parete eventuali ma niente niente di che niente di meglio di ciò che già non abbiamo onestamente quindi la mazza nera continua a essere sempre la scelta preferita migliore la mazza nera e qui non c'è nient'altro ma abbiamo finito ok per questo abbiamo fatto tutto ok allora ora che li abbiamo ma sono un po un po così eh caccia il mask vabbè eccetera compression sleeve non ce l'abbiamo ritual item c'è questo face paint e poi roba un po così questa è qui qui ok face paint abbiamo messo race paint e qui bett e l'ho equipato will squad batting gloves ne abbiamo abbiamo questo scusa e qui siamo questo batting gloves è ora equipato no equip e ok bat grip perché non è ok va bene socks perché non è equip e poi è giving you once you reach a major league level a major league level altri abbiamo ben capito sta cosa però vabbè qua le scarpe io le mettiamo e qui bett ok shin guard non c'è niente le guard fanno tutto sky fall sono tutto sky fall sto qua questo poi feeling groove feeling groove e ah ma cosi e questo 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 che abbiamo questo chest board questo chest protector questo questo catcher mask questo ok 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 va bene e il messo queste cose ok però adesso dopo il messo queste cose perfetto adesso ci abbiamo ecco 191.000 di questi stops di queste monete e questo community marker iniziamo a comprare allora prima un pack voglio comprare un pack un pack il micro non packs un pack no them c'è qualcosa wake up si racconta io e non ho capito vabbè unlockables no questi sono altre cose vabbè equipment andiamo di equipment allora andiamo di filtro no che name no filtro direi iniziamo con ok 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 batting gloves e un po compression sleeve questo non ce l'ho compression sleeve dai no clarity diamond assolutamente diamond quindi search ok ok quindi prendiamo questo che ci dà tutte ste robe vai prendi vai serve io voglio comprarlo non posso comprarlo in poco volevo comprarlo ho sbagliato anche per mente aspetta allora allora filtri filter la fin in globo gold no era era ecco questo compression sleeve vabbè vai vai ma andiamo così allora migliore che ti può prendere forse questo forse eh arm questo questo sembra il migliore che possa prendere anche se questo andiamo di questo dai questo andiamo di questo ok vai crea ok perfetto poi è ogni volta sbaglio scusate ora filter 크�io mi ricordo più va beh sentite e non mi ricordo più cosa personalizzare come come con come come sono messo scusate un attimo scusate un attimo come sono messo e moet ball playa ball ball playa o allora comprensivo è quello che mancava e lo equipaggiamo ritornate ma poi c'era che c'era no come no non c'è no dai maneri a si chiama dai monedit quello riscorda riscorda ok riscorda batting gloves ce l'ho già list guarda scusatemi la pronuncia è però guarda però facciamo facciamo che facciamo 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 che non lo so allora sempre community market equipment to a list guard dov'era l'aspetto dove filtro list guard list guard io ci parto già io poi io parto col diamond e qua c'è il diamond qua c'è il da boi 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 ho comprato perfetto però se voglio comprare un perks tipo speed allora io un po name se faccio uno speed e allora su speed 2 speed 4 non ci sono acquisti vero speed 4 non ci sono acquisti vero speed 5 non ci sono acquisti vero scusa eh name 5 non ci sono acquisti vero speed 5 non ci sono acquisti vero e via ok vai fanno tutti piuttosto Skyfo proprio fa un pochino skyfo questo speed 3 più 3 questo è sempre più 3 questo è sempre più 3 questo è sempre più 3 migliore vabbè speed 2 dai dai ok fatto questo io ora a questo punto equipaggio quello che posso la miseria equipaggio quello che posso e poi proviamo a fare qualche partita perché non ecco poi che abbiamo qua basta perché tutto il resto già messo qua speed c'è uno speed 2 ecco aumento di una velocità sempre meglio che niente e andiamo ci si slugger ci si slugger facciamo aspetta un'ultima idea come ti mando ultima idea perks come si chiamava name c'è sì 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 scusate un attimo ok un po così ci si ci si ci si sta che non c'è niente va bene come non detto come non detto signori all'attivare qualche partita proviamo con questo nuovo equipaggiamento vediamo se cambia qualcosa batting cage e t drills t drills ok perfetto andiamo contro chatta lunga chatta lunga magica chatta lunga se va de chatta lunga e adesso la battuta avanti salvo 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 però aspetta che qua abbiamo fanno schi qua c'è il rischio ma fanno scherzone no si fermati 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 che va bene così fermati che va bene così seconda base mi ha dato il busta bolle attenzione basta regalata siamo in terza siamo in terza base attenzione da che poi al punto possiamo andarlo a fare eh possiamo andarlo a fare punto abbiamo puntato abbiamo puntato eh abbiamo puntato abbiamo fatto punto e abbiamo fatto punto abbiamo fatto punto siamo arrivati a casa base signori e allora andiamo e allora andiamo attivarla di ricezione molto facile molto sereno molto tranquillo e vai arma ancora si ok e miglioriamo ancora l'accuratezza del braccio va bene adesso fai chatta lunga 1 0 dai 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 stavolta andiamo bene niente fa va bene va bene 1 1 nessun problema era poll ma va bene era poll ma va bene poll ma va bene poll 2 1 dai 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 a eeeh schifezzi e va bene niente no schifo proprio no schifo proprio meno di potenza ma va bene fa niente fa niente tanto stiamo straperdendo va bene Uh attenzione Grazie base regalata E ale Andiamo Altra base regalata E siamo in due Seconda base dai E sto qui però No Eh no dai sono arrivato prima Por Va beh niente Fa niente fa niente dai Da metà Torch 0 1 Niente calma devo stare calmo Mi faccio prendere troppo dalla 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 cosa di battere Mi faccio prendere troppo Porca Un po' troppo Ok Dai dai Sono due calmi Stiamo calmi Va beh Ho inventato un po' da vision Va bene Va bene Va bene Va bene Ok 1 2 Va bene Dai dai 2 2 Ok La pressione Gli mettiamo pressione Gli mettiamo pressione Gli mettiamo pressione Ok Va bene Gli stiamo guadagnando in vision Dai dai Sì 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 Vabbè Niente Io ho nessun'icezione Usate Iniezione Sereno Molto sereno Molto tranquillo A posto E anche oggi c'è il fielding Anche oggi Anche oggi c'è il fielding Signori Anche oggi c'è il fielding Dai 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 tu qua Olè Ancora sì Eh Ancora sì Ancora Sì Ancora Sì Vabbè Cosa era siciliana Lasciate stare Vabbè 0 2 Dai dai Strecca Eh Vabbè Eh Fatto il punto Vabbè E ho sbagliato io Ho sbagliato io Ho sbagliato io Va bene Va bene Fa niente Confermiamo E andiamo avanti E andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Signori Allora Mo Mo che ti fa Partiamo in ricezione Si parte con azioni In ricezione Ci siamo Ci sei Ok Dai 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 che ci siamo E adesso in battuta Dai Dai metà 1-0 Dai 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 Bella Va via Io dico che va via Però Non va via Però Due basi Le facciamo Serene Serene Tranquille Tranquille Due basi Le facciamo Mo siamo in seconda base Mi sa che non Devo stare tranquilli Devo stare calmo Ok E niente Noi Essere mai good Scusate Nella centrale Vabbè 0-2 Just early Va bene Calma Calmi 1-2 Ok Per la vision Si però Porto Tarmi Vabbè Fa niente E' la sua ricezione Dai dai Mettiamoci alla Fielding Mettiamoci la Fielding E qua c'è Fielding Qua c'è Fielding A posto Qua c'è Fielding Signore Qua c'è Fielding C'è tanto Fielding Adesso Alla battuta Adesso No alla battuta Dai Sempre lui Eeeh Fine Corti E niente E' proprio Vabbè Niente Ci abbiamo provato Insomma Ti proviamo Vabbè Allora Siamo calmi E' tua E' tua Bravo Bravissimo Bene così Bene così Adesso Dai 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 Ce la fa 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 Sereno Ce la fa Sereno Avanti E' fin battuta Dai dai Si fa Difficoltosa La cosa 1-1 Can Si può fare Molto sereni Molto tranquilli Si può fare Va bene 1-2 Ok Very late Ma va bene Uguale Eeeh Eeeh Giorno Eeeh Battuta Di nuovo Nono inning 3-3 Attenzione Possiamo essere eroi Della partita Possiamo essere eroi Della partita Fuoricampo E facciamo vincere La nostra squadra Dai 1-1 Tentiamo il colpaccio Tentiamo il colpaccio 2-1 Va bene Grazie arbitro Ovviamente Di mie va via Di mie va via No Non va via Non va via E niente Finisce No 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 Inning E si continua Siamo al Decimo E noi siamo Quelli che partono Dalla seconda base Noi restiamo sempre La seconda base Va bene Io però Calmi Vai Salvo No 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 Non può essere così stronzo L'arbitro però Però abbiamo vinto Lo stesso Va bene uguale No 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 L'arbitro non può essere Così 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 Vabbè Avanziamo Facciamone un'altra Facciamone un'altra Dai dai Avanziamo Avanziamo Ancora Chattanooga E Chattanooga Chisma Bene E Chattanooga E Chattanooga E Chattanooga Ma posso Carre E Chattanooga E Chattanooga Scusate C'è un'altra C'è un'altra Momenti Cretinagia Scusate Ogni tanto Capita E ecco Siamo di nuovo in ricezione Dai 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 Sono qui Amico mio Eccomi E ne sono due E a lei Adesso la battuta Dai dai Per tanto così Non mi regalava la base Per tanto così Tanto così Mi sembrava che stesse andando via Ma va bene 1-1 Tranquillo Ok Perché non mi dà più visione Eh Sono un'altra Vabbè Vabbè E niente Vabbè Fa niente Fa niente Se andiamo qua Calma E non ce l'abbiamo Eeeh Vai Dal Che cosa lo Vabbè Meno male che si è fermato lì Vabbè Vabbè Va bene Ok 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 Pubito Bravo Dove sta andando il ricevitore Dove c***o Ah Ehi Qua in interna Il nostro metà predica nel deserto E non soltanto perché Ma Porca miseria Dai Subito Niente Tutti lenti Sono tutti Guardi Lo sarò bancato Ma vabbè E non posso prenderle tutte io Allora Dai Tocca a noi 1-0 Dai 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 signori 2-0 Benissimo Dai 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 signori Perché non mi dai più visione Eeeh Maledetto Eeeh No no Dai 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 2-2 Porca miseria Niente Non 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 prendiamo Too late Addirittura Calma Beh E che sfiga Però Che 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 Sfortunelli Che Sfortunelli Che Sfortunelli Vabbè Di nuovo in ricezione Ci risiamo Eeeh A me sa che Ehi Eeeh Ha fatto fuori campo Bravo lui Fatto fuori campo E finì qua 1 Vabbè Vabbè Calmi Calmi Vabbè Vabbè Porca 61 Just late Va bene Calmi 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 Ti vuoi fare Eeeh Eeeh Che vi pare Che vi pare Dai 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 Una brutta doppia Benissimo Benissimo Eeeh Vabbè Vabbè Niente Diamo la battuta Ci riproviamo Ci riproviamo Signori Ombro Io mi niente Traiettorie Mi sembra Sempre che vada Centrale E poi scende All'ultimo Io non Non riesco A leggerla Mai Va Ma porca Che Sfortunelli Vabbè Va bene 0 2 Fa niente Calma 1 2 Dai Divisione Aumentiamo Divisione 2 2 Ok Dai Dai Signori Ho disimparato A leggere A leggere Traiettorie Come è possibile Porca Misere Così Becillito Sono diventato 1 0 Calmi Stiamo Calmi Stiamo Molto Calmi 1 0 Dai 2 0 Ok Dai 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 3 0 Mi è stato 3 0 Porca Misere Va bene Dai 3 0 3 1 Adesso Dai Un'altra Così E Ringrazio No 3 2 Eh Too late Questo Ma Questa Mai tira Così Forte Signori Base Carata Grazie Mille Adesso Allora Calmi Calma E Niente E Vabbè E Vabbè Direi Torniamo Alla Clubhouse E Chiudiamo Con la Puntata E Non abbiamo Provato A migliorare Le cose Con un po' Di Equipaggiamento Ma a parte Il fatto Che Non ho Trovato Granché Adesso Qualcosì Ma nulla Di che Allora Card option Quicksell Sì sì Quicksell E qua Non posso Fare Il suo Option Va Benissimo Signori Va Benissimo Quindi 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 Direi Per Oggi Possiamo Fermarci Qua E Darci Buon Detto Alla prossima